Si è svolta a Palazzo Simbardi la presentazione di Real Sun, una rete di autorità e attori locali, europei e centroamericani, impegnati sul tema della sicurezza alimentare e nutrizionale. Al progetto di cooperazione internazionale che ha coinvolto il Comune di Milano e tre università, Bicocca, Politecnica e Statale, la provincia ha contribuito con un documentario ed uno spot pubblicitario realizzati in Centroamerica dal Medialogo, servizio divisivo del settore comunicazione. Sicurezza alimentare vuol dire ragionare anche per le future generazioni. Il progetto del Comune di Milano in collaborazione con il Fondo di Cooperazione Provinciale Milanese, la provincia di Milano e il Fondo Andaluso di Cooperazione FAMSI è sicuramente un punto di partenza importante per cominciare a far capire alla nostra popolazione che l'alimentazione è uno dei settori principali che garantisce la salute dell'uomo. Si possono finalmente far partire delle concreti progetti di cooperazione internazionale, di cooperazione decentrata, che vadano a completare il complesso quadro di una costruzione e di una restituzione del tema che deve essere il centrale di Expo 2015, che è quello del Nutrire il pianeta, energia per la vita. Real Sun è una rete composta da molti attori europei e centroamericani, in primis autorità locali, ma anche organizzazioni della società civile, università, ciascuno con un suo ruolo, ciascuno con un suo potenziale che vorremmo valorizzare in una prospettiva di maggiore efficacia degli interventi di cooperazione internazionale e di cooperazione internazionale decentrata, ma anche di miglioramento delle politiche per la sicurezza alimentare e nutrizionale e per la sovranità alimentare che vengono sviluppate a livello territoriale, tanto in Centro America quanto in Europa. Il Presanca, il programma regionale della Commissione europea per la sicurezza alimentare e nutrizionale in Centro America, è un interlocutore chiave e fondamentale sul fronte centroamericano? Non so se per la prima volta, ma quasi, sono tre università che collaborano insieme, che la Facoltà di Agraria dell'Università Statale, il DIAP, Dipartimento di Architettura di Pesaggio e Politecnico e la Bicocca, che lavorano insieme su questi aspetti. Ora, la cooperazione internazionale ormai per l'università è diventata una cosa importante perché noi collaboriamo spesso non solo con altre università locali di questi paesi di sviluppo, ma anche con agenzie locali, attori locali, eccetera, per cercare di affrontare dei problemi concreti, non solo per scambi di tipo scientifico e basta. In particolare, sul discorso sicurezza alimentare, è un discorso che riguarda non solamente i paesi di sviluppo, ma riguarda anche noi, quindi abbiamo veramente a scambiarci esperienza a questo punto di vista.